Andiamo a pescare i corigoni, i corigoni è un pesce che si trova solo in un lago puro e non inquinato, perché altrimenti non viverebbe. Il nostro spot, qual è il nostro spot di oggi? Il nostro spot è... Ma Valerio non sa che è il spot, l'ho detto 5 volte. E' meno possibile. E infatti non si può dire, cioè ve lo dimo se non fiamo niente, se non fiamo niente vediamo dove siamo andati. Però è uno spot molto battuto per questo pesce e sta vicino a casa nostra. Quindi abbiamo due mosche secche finte, 20 cm dall'altra, e poi infine come ultimo amo una camola da miele vere, quelle usate normalmente per le rode. Il tempo è definitivamente, guardate, non proprio bellissimo, ma oddio, diciamo che ecco è nuvoloso, c'era il sole. Speriamo non faccia tanto freddo e ci vediamo dopo, ci sentiamo dopo, all'arriva del lago. Guardate, guardate dove siamo, guardate, il nostro trattore panda oggi ci porta, guardate, guardate, stiamo proprio scalando una montagna. Ci sei arrivato, qui sì, allora ricordiamo, siamo venuti a Coregoni, è il primo dell'anno tra l'altro, che non l'ho detto prima, è il primo dell'anno, chi non pesca il primo dell'anno pesca tutto l'anno. Ma noi peschiamo oggi e prenderemo almeno un pesce per uno lo prenderemo. La mia vita è un'altra, e poi non pesca il primo dell'anno, chi non pesca il primo dell'anno. La mia vita è un'altra, e poi non pesca il primo dell'anno, chi non pesca il primo dell'anno. La mia vita è un'altra, e poi non pesca il primo dell'anno. La mia vita è bella, non viene iniziato a piovere, freddo, vento, tutto assoluto. Guardate il bel lago, guardate la strada. Ho imparato tante nuove tecniche, le nostre tecniche erano sbagliate, il galeggiante era sbagliato, il filo era sbagliato, la canna era sbagliata, la canna era sbagliata. Valerio ha provato a prendere le carpe, l'inverno, con le camole, quindi ha sbagliato l'esca, il tempo e tutto ha sbagliato. E canna il filo pure. E canna il filo. Quindi ci vediamo alla prossima uscita, sperando in qualcosa di più serio. Ciao.